Buongiorno a tutti, mercoledì 28 giugno, siamo in attesa di una seduta sui mercati azionari europei di moderato rimbalzo dopo quanto accaduto sui mercati azionari americani nella giornata di ieri, ovviamente siamo sempre in questa situazione di incertezza per cui il mercato non ha una vera e propria direzionalità e dobbiamo semplicemente attendere gli eventi e cercare di massimizzare le poche possibilità che in questo momento sono presenti, perché come vi avevo già detto in più occasioni sono veramente pochi i titoli che stanno garantendo una performance a doppia cifra da inizio anno, al di fuori di questa ristretta cerchia di titoli ci sono tantissime aziende che invece stanno ampiamente sottoperformando, per cui la difficoltà in questa fase è proprio quella di essere in un trend di fondo rialzista ma con la maggior parte dei titoli in un trend ribassista. È un paradosso al quale io non ricordo di aver assistito in una carriera ultraventennale, però in questo momento ci troviamo a far fronte a questa situazione e è nostro compito cercare di adattarci nel miglior modo possibile perché purtroppo la situazione è sicuramente molto complessa. Non perdiamo però ulteriore tempo, vi condivido lo schermo, partiamo dagli indici americani e come vi avevo già anticipato nel video di riepilogo serale c'è una situazione nuovamente moderatamente positiva sugli indici americani, il Dow nella fattispecie ieri ha fatto più 0,63 ma cosa ancora più importante sta provando a creare una nuova area di supporto piuttosto importante poco sopra 33 mila e 600. Questo rimbalzo che si è verificato ieri può continuare nelle prossime sedute però non credo oltre 34 mila 206 che è il massimo del 20 di giugno, per cui al momento mi sento per quanto riguarda il Dow Jones di ipotizzare più un trading range e non una ripartenza per andare a cercarsi nuovi massimi. Stesso discorso anche per lo Standard & Poor's 500 che ieri ha chiuso a più 1,15 e in questo caso l'obiettivo potrebbe essere 4.400. Nasdaq Composite, anche qui c'è stato un buon rimbalzo più 1,65, un ottimo rimbalzo. Target per le prossime sedute 13.632, 13.638 e poi 13.711. Nasdaq 100 ieri più 1,75, 15.044, 15.127 i target che ci sono sul Nasdaq 100. DAX invece in laterale sui minimi di breve periodo è fondamentale che non perda 15.713 perché altrimenti abbiamo un 15.675 media mobili a 100, 15.629 minimo del 31 di maggio. Caccarant, come ho già detto ieri, leggermente meglio perché comunque ha superato i massimi della congestione di breve per cui qui sono un po' più ottimista per un ritorno a 7.297, 7.322 e eventualmente sulla media mobili a 50, 7.347. Eurostox più o meno stessa situazione perché riesce a chiudere sopra al massimo del 22 di giugno, la Dragonfly del 22 di giugno, 4.304, quindi per le prossime sedute avremo 4.350, 4.365. L'Eurostox banks continua la sua fase di recupero, ieri ha superato la media mobili a 50, 103.56 avendo effettuato una chiusura a 103.86, qui il target multi-day è 106.32, avendo peraltro la media mobili a 100, a 106.18. Food Simil futures, forse come dicevo probabilmente il miglior indice, in questo caso il futures europeo, perché comunque addirittura chiude a 27.635 e praticamente chiude sul massimo del 22 di giugno facendo una seduta da più 0,95, perché ovviamente il futures negozia fino alle 22 facendo anche il mercato serale. Per le successive sedute, quindi da oggi fino al fine settimana, fino a venerdì 27.880, 27.975, anche qui non credo ancora che ci sia la forza per fare nuovi massimi. Diamo uno sguardo ai futures, vediamo che quegli americani sono in leggera perdita, parte Dow che è invariato, Standard Report 500-0,13, Nasdaq 100-0,28, RAS 2000-0,23, DAX più 0,43, Eurostox più 0,09, in Asia Nikkei più 1,04, Topix più 1,78, Hang Seng più 0,04, Singapore più 0,37 e Cospi meno 0,41. Calendario macro non c'è tantissimo, ma ci sono alcuni dati che ci interessano da vicino, ovvero l'indice dei prezzi della produzione per il mese di maggio in Italia, previsto in fortissimo calo, a meno 9,4 da meno 1,5, questo è quello annuale, quello mensile anche qui in forte calo, meno 6,2 da meno 4,8. Ancora più importante però è il dato delle 11 che è praticamente l'inflazione, anche qui previsto in calo al 6,8 a livello annuale, allo 0,1 a livello mensile. Poi gli altri dati non li considero così rilevanti, si va il pomeriggio a Sintra direttamente perché parlano alle 15.30 Powell e Lagarde e ovviamente gli occhi del mercato saranno concentrati su questo evento dei banchieri centrali. Notizie price sensitive, non ce ne sono molte, ne ho trovato due io nei comunicati di Borsa Italiana che riguardano due titoli più sottili rispetto alle blue chips di cui parlerò tra poco, ma comunque ho piacere a mostrarveli perché così allarghiamo sempre la fascia dei titoli da seguire perché possono esserci degli spunti interessanti. Partiamo comunque da Eni, ha firmato con perenco l'accordo per l'accessione della sua partecipazione in alcuni permessi petroliferi in Congo, marginale rispetto alla strategia nel paese, il valore dell'operazione è pari a 300 milioni di dollari. Ovviamente 300 milioni di dollari per Eni sono un pannicello caldo d'inverno, diciamo una bevanda refrigerante d'estate e qui la partita è comunque molto interessante perché siamo in questo trading range, il livello chiave ve l'ho già detto 12,642, sotto questo livello avremo 12,534, 12,45, a rialzo abbiamo tutte le medie mobili a partire da quella a 50, 13,22, quella a 200, 13,24, quella a 100, 13,33 che fanno da resistenza. Generali, l'aumento dei tassi di interesse sta rallentando i piani di generale liberarsi un portafoglio di polizia vita fino a 20 miliardi di euro, complicando discussioni con i potenziali compratori, lo riferiscono tre fonti vicino alla situazione. Ecco, questi sono problemi non da poco, infatti tra le difficoltà che ci sono sul mercato, ci pensavo questa mattina venendo in ufficio per esempio, io mi spiego poco la forza delle utilities, perché sinceramente se le banche, posso anche capire che continuino a salire, visto che la Lagarde ha già anticipato che anche a luglio alzerà i tassi di interesse, mi sembra strano che le utilities con la mola e i debiti che hanno possano continuare a salire. Questa situazione di generali comunque non sembra dal punto di vista tecnico creare particolari problemi al titolo in questo momento. Il livello che non deve essere perso è 18,085 perché c'è la possibilità di un rimbalzo fino alla media mobile a 50, 18,54, poi questi massimi 18,67 e mezzo, 18,73 e mezzo, 18,79 e mezzo. Ora, prese da Borsa Italiana, c'è un comunicato stampa per l'aggiudicazione di una gara da parte di Noccivelli, attenzione però è una delle tante, quindi il titolo va seguito perché sta lavorando veramente molto bene, vedete in meno di un mese Noccivelli si è assicurata aggiudicazioni per lavori verso la pubblica amministrazione, per oltre 30 milioni di Euro. Compagnia specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici nei servizi di facility management, leader di settore a livello nazionale in operazioni di paternato pubblico, si è giudicata nel raggruppamento temporaneo di imprese come capogruppo assieme alla società Pavoni S.P.A., quattro lotti di una gara d'appalto avendo oggetto l'affidamento delle esecuzioni di opere di rimpiantistiche per la realizzazione e adeguamento di strutture ad adibire ospedali comunità e casi comunità in provincia di Brescia e Lodi. Nel reparto ospedaliero sta lavorando particolarmente. E tra l'altro ieri il titolo è stato anche leggermente comprato, adesso scusate oggi è mercoledì, lunedì è stato anche leggermente comprato. Quindi ha fatto una buona base in area 3,60 e graficamente punta arrivare fino a 3,88 a limite a 4. Ve lo mostro però attenzione perché gli scambi sono modesti, per cui preferisco che lo vediate a titolo didattico, perché, ripeto, non ci sono degli scambi adeguati, però imparate a valutare le notizie, capire il portafoglio ordini. Questa è una società che ha dei numeri anche piuttosto buoni, per cui è sempre nell'ottica di allargare il numero di società da seguire. Questa invece la conoscete sicuramente di più, è Salcef. Anche Salcef è forse ancora più di Nocivelli, una società ormai quasi nel firmamento delle mid-cap italiane. Salcef comunica che le controllate Salcef SPA ed Euroferroviaria si sono giudicate la gara indetta da RFI, Rete Ferroviaria Italiana, per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di elettrificazione alla linea Cagliari-Ristano. La firma verrà nelle prossime settimane. Il contratto finanziato anche con il Fondo per lo sviluppo e la coesione ha un valore di oltre 45 milioni di Euro e prevede la realizzazione di linee di contatto e di 6 sottostazioni elettriche. Allora, è vero che prendere una nuova commessa fa sempre bene, però Salcef è veramente una società che ha già il suo portafoglio ordini piuttosto importante, ha già dei numeri a livello di bilancio piuttosto buoni. Adesso non mi nascondo che per esempio mi sembra un po' arrivata in questo caso. Non penso che una commessa da 45 milioni possa permettere a Salcef di rompere al rialzo i massimi del 13 giugno che sono a 23.8. Quindi è più probabile un ritorno a 22-25, poi qua abbiamo 22-20, la media mobile a 50 e la ricerca di una nuova base che credo potrà avvenire tra 21-50 e 21. Quindi, nonostante la buona notizia, mi sembra che il titolo stia iniziando una fase di distribuzione. Per questa mattina ho concluso, auguro a tutti buon trading e noi ci aggiorniamo dopo la chiusura del mercato diurno.